Alcuna matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CiccioGamer89 Siamo tornati qua in un nuovo video di Fortnite Subito un bel pollice nel sub Vi ricordo che il mio codice creatore Se mi volete supportare su Fortnite CiccioGamer89 e su Instagram Mi trovate tramite il nome CiccioGamer Tantino Basso 89 Allora, oggi proveremo Incrociando le dita a usare Il nuovo AK leggendario Che è passata una settimana e io ancora non l'ho mai provato Parlo con tutte le spalle E let's go Beh, di gente sicuramente ce n'è Qualcuno Qualcuno c'è Quello che cos'è? Vaffa frega, vaffa Vesta costosa pistola Verde Partina 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 Osso Allora Partina Direi che sono morto È poco Quindi uso Provo Ad Usare Le mie abilità segrete Allora dove vado vado C'è gente che si vuole malissimo E questo poi anche Ci può anche stare Non mi dite perché ma ho questa Fantastica canna da pesca In questo momento Ragazzi se non mi sparano Sono contento io provo un tanto a curarmi Allora qua davanti a me Io Avevo visto qualcuno Ma non credo ci sia più Penso che sia andato in segheria Non lo so Comunque qua veramente tantissima gente Regà Segaria sarebbe perfetta per un discorso Di materiale Ovviamente Io ce l'ho provato Sai Ok forse mi ha visto Forse non mi ha visto Ma a vedere mi ha visto Mi ha visto sicuramente Mamma mia Se tirava fuori la capocetta Un pochetto Un ragianamento morto eh Un morto Ma c'è pure Mi non Io uno ho massacrato Un altro pure Ma quello sopra sopra pure Bravo No vai sotto Quanta gente c'è Avevo dei materiali una volta Chissà Comunque si Le abbiamo masserati Quell'altro pure Qua una cecchinata Prepotentissima Regà Che devo fa' Voglio capire Pure quell'altro Lo vorrei proprio capire L'altro Intanto sarebbe Da far fuori Questo qua Che se 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 ferma La botta in testa Gli atiro pure Però è partito a cannone Allora Devo provare a fare così Per forza Allora 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 Regà Scusate Ma Non posso Parlar In questo momento Dato che Veramente Questi Ci hanno La sgherimbolla Un altro Che sgherimbolla Devo fare così Che dite Ancora c'è gente Non ci posso Credere Regà Vorrei capire Se stanno Sopra Se stanno Sotto Vediamo Vediamo un po' Allora Anche è vero Che dobbiamo andare Safe Anche è vero Che Attualmente Con il Cecchino Non è che Ce faccio Tantissimo E loro Sono morti Secondo voi Non ci posso Non ci posso fare Niente Questo Mi sa che C'è Lancia Razzi Dovrei Farmi un po' De legno Vorrei Vorrei vedere Vorrei vedere Se tante Vorte Riesco Così Ok 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 Allora Sentite Non tanto Non tanto Ma senza Pensarci Ulteriormente Via Via Eh regà Sto utilizzando bene Quello che mi circonda Regà Ci sarebbe un airdrop Qua a sinistra Ma poi c'ho pure Dei muricce Con la safe Quindi non posso Qua è tutto Loot Eh Bello Quella è Troppo la mia Sinistra Regà Bellissimo Però Rischio un botto E comunque Anche adesso Non sono riuscito A prendere L'arma nuova Sempre se Non l'hanno tolta Ok Dai Mi aspetto Pure questo Va bene Comunque Io da qua Necessariamente Me ne devo andare In safe Come avete visto Ho fatto apposta Non prendermi L'M4 Mi sono voluto Tenere P90 Anche perché Secondo me Me la capo meglio Faccia a faccia Quasi quasi Ultimamente Più il carto Devo fare Super attenzione Alle cecchinate Sono quelle Che mi fottono Cioè tipo adesso Bzzm Cecchinata Quello mi attacca Io muoio De solito Sempre così Ok Là C'è uno Qua Non lo so Che vero Là ci sono Dei funghi Ma anche Vero che poi Però vado sotto E vado fino A quello là Quindi via I materiali Sembrano tanti Non è così Anche se a me Quei funghetti Là sotto Mi fanno De una velocità Raga Subsonica Ma là vado a fare Un fight Siamo rimasti in 6 Troppa indecisione In questo momento Ci vai Da una parte E continua E va Eh Ti pare che non c'è nessuno Che non sta correndo Da sta parte Buoni anche questi I funghetti Comunque Comunque Ho un rischio Fare così È veramente Vabbè Veramente È un rischio Comunque Io mi vorrei Prendere questo Siamo rimasti Sempre insieme Sembra che Siamo un 2 Allora Mi ha lasciato Mi ha lasciato 3 medikit Secondo me È stupitaggine Fucile a pompa Anche no Ok 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 Vorrei comunque Proviamo a portare via Un po' di materiale Ok 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 Bravo Carica Che tu a me non mi hai visto Bravissimo Vai Vai così Vai Bravo 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 Spaccatevi la testa Bravi Io non so come rincorrervi Ah 1 2 3 4 E me ne manca 1 All'appello Me ne manca 1 Raga 1 2 3 4 Siamo 5 Quindi uno starà qua Ipotizzo Anche se Il lanciabende In questo momento Potrebbe essere quasi interessante Ok Ma dimmi di quello Dove sta il nome I miei medikit E' sceso del mattone Ok Ok I medikit Ah eccole Due medikit Ok Come va a capire Quale è la mia Quella sua Quella è quella De mammata Siamo in 4 Io ho Low ground Però anche è vero Che ho Parecchie cure In 4 In una safe del genere Va bene Eh Stiamo tutti Buoni buoni Qua Normale Ok Mi sono fatto pure Il tettino Io Sarebbe Chiude verso De qua Ok Alla già c'è uno Mazzò Mi faccio dei box Mi faccio dei box Ok materiali Ok 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 Ottimo E' due contro due Potevo andare a ruotare Là Chi lo sa Devo dire che mi ha rotto Bene bene Vediamo un po' Eh ma io lo so Non ci credo No non ci credo Con 15 di vita No Pensavo di aver vinto io Ebbè oh Ha fatta lui A sigla mia Ah Nini Non ha Ci ho provato Ci ho provato Ha vinto lui Lale Lale Lala Pensavo di aver vinto io Lale Lala Oddio rega Io spero che il video Mi sia piaciuto E' stato comunque divertentissimo Oh rega Pensavo di aver rotto La trappola Invece Se vede che Non lo so Ho colpito lui Pensavo anche Di ammazzare anche lui E non gliel'ho fatta Sì Spero che il video Vi sia piaciuto Vi ricordo Di cliccare qua Gli altri due video Che vedete qua Che sono apparsi In qualche maniera Mi raccomando Se il video è piaciuto Pollicino in su Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivete E appoggia Appuntamento A vostra C'è più Tantano Questo Stava cortesia Mi sta a lasciar ballo Bella Ciao 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 Ciao